Siamo a Besnate, nel centro sportivo della Besnatese, dove oggi era in programma alle due e mezza la partita Besnatese-FBC-Saronno. Dei bianco celesti erano presenti solo tre giocatori, per questo motivo dopo la chiama sono entrati in campo solo i giocatori della Besnatese, che faranno un piccolo allenamento in attesa di una seconda chiama da parte degli arbitri al termine del primo tempo. Se a questo punto gli FBC non avrà almeno otto giocatori da schierare, la partita sarà ufficialmente annullata. Al momento al centro sportivo c'è la Besnatese che si allena, i loro supporter che stanno comunque facendo cori per la squadra, qualche saronnese è venuto a vedere la situazione, mentre se ne sono già andati gli ultras del fronte ribelle, arrivati con le maglie che avevano ricevuto in un'occasione di un evento celebrativo per dimostrare il proprio attaccamento alla squadra e contestare nuovamente, come domenica scorsa, la società.